Era lì, con la testa china sul mortaio, i capelli arruffati, le mani sporche di quella mistura che stava sminuzzando. Attorno candele accese, ornamenti particolari, incensi e fiori, tanti fiori. Fu così che la vidi quella volta, gli occhi stanchi di chi non dorme da molto. Maria, perché tutto questo? Non lascerò mai nulla di intentato, rispose. Io credo nell'amore, quello vero, quello che unisce le persone giorno per giorno sempre più. Credo nella forza della natura che aiuta coloro che desiderano completarsi. Credo nel multiverso e dove ognuno ha quel che si merita. E credo che la mia missione sia anche questa, trovare un modo di chiedere al cielo una svolta per loro. Ma questo affannarti vale la pena? chiesi. Sì, vale sempre la pena di lottare per ciò in cui si crede. Alzò lo sguardo e mi fissò un istante. C'è qualcosa che posso fare per te? mi disse. Scossi la testa. Avrei voluto chiederle mille cose, ma dalle labbra mi uscì solo nulla. Volevo solo sapere come stavi. Sto come vedi, rispose. Non lo so, credo avesse una dannata voglia di piangere. Ci fu un istante di silenzio e poi... Maria, tu fai tutto quello che puoi per le persone che incontri. Ma chi c'è che si preoccupa per te? Alzò nuovamente lo sguardo, ma stavolta una lacrima le tradì il sorriso. Disse solo... Gio, credo che sia meglio che tu vada. E chiuse gli occhi, tentando di trattenere il pianto. Sapete, l'amore non è rumoroso, non dà spettacolo. L'amore è tutte le volte in cui ti prendi cura di qualcuno. L'amore è solo se vuoi che sia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.